In collaborazione con GESAC, aeroporto di Napoli Carpisa Paradigm 404 Yamamai A un anno di distanza torniamo al centro La Gloriette per raccontarvi di tutti i progressi e anche i successi che ci sono stati in questo che è stato un bene confiscato alle mafie e che noi abbiamo seguito da tre anni a questa parte nelle trasmissioni di salute. Benvenuti e restate con noi. Ritroviamo dopo un anno Angelica Viola, presidente dell'Orsa Maggiore, oggi che sprizza gioia da tutti i pori dal momento che è una giornata importante in cui una scolaresca è venuta a far visita ai vostri ragazzi, a cercare attraverso il discorso sulla legalità anche di capire però che cosa può succedere poi dopo che un bene viene confiscato alla camorra. Ma ritorniamo a noi, all'Orsa Maggiore, all'attività che in questo anno da quando noi ci siamo visti l'ultima volta e devo dire che qui c'era la metà di quello che vediamo, molti progetti ancora non erano partiti, invece che cosa è successo Angelica? Sì, grazie per essere tornati ad accompagnare il nostro centro. Oggi il centro polivalente per ragazzi vulnerabili, La Gloriette, è in piena attività. Il senso del riutilizzo di un bene confiscato alla camorra è anche quello di ospitare un servizio stabile, quotidiano e a favore delle fasce deboli. Dicevi stamattina, ospitiamo il liceo Pansini che all'interno di un percorso di educazione alla legalità sceglie di favorire l'integrazione tra i propri studenti e i ragazzi del centro. E forse questo è il senso dei nostri laboratori, promuovere delle attività educative finalizzate all'autonomia e all'integrazione col gruppo dei pari. Siamo quindi impegnati nel laboratorio di cucina, nel laboratorio della manualità. Ovviamente in questi giorni abbiamo provveduto ad addobbare con le famiglie dei giovani il Natale all'interno del centro. So che c'è stata addirittura una bellissima mostra a mercato. Sì, in occasione diciamo del sabato 13 dicembre abbiamo promosso una mattinata di protagonismo dei ragazzi invitando la cittadinanza a vedere e magari a gustare il frutto dei laboratori. Quindi laboratorio di cucina, di manualità, i ragazzi si sono espressi con delle tele che poi sono state ovviamente donate agli ospiti. È un'occasione di promuovere sempre in città le attività che vengono svolte all'interno della Gloriette. Angelica, siccome noi vi abbiamo seguiti veramente fin da quando qui c'erano i lavori in corso, credo un tre anni fa, anno dopo anno, passo dopo passo, voi state andando avanti. Che cosa ancora bisogna fare per questo centro La Gloriette? Certo, l'impegno per poter restituire a pieno l'utilizzo di questa struttura prosegue. Non si è concluso, ci sono delle aree ancora oggetto di interventi strutturali al fine di poter ampliare gli spazi a disposizione dei ragazzi. Ancora abbiamo per esempio la piscina sulla terrazza che sarà oggetto di riutilizzo, di intervento di ristrutturazione nel corso del prossimo inverno-primavera. E certamente quello che ci sta particolarmente a cuore è la possibilità di mettere a frutto l'esistente di questa villa e a disposizione dei giovani. Quindi il cantiere è ancora aperto, molto. Quanti ragazzi potete aiutare ad avere una qualità di vita migliore rispetto a quella che avevano prima di conoscervi? Ad oggi frequentano il centro circa 40 ragazzi, suddivisi per gruppi. Al mattino frequenta chi già ha più di 18 anni e ha completato il percorso scolastico. Nei pomeriggi frequentano invece i ragazzi che ancora frequentano la scuola. C'è ancora uno spazio per accogliere nuovi iscritti. Certamente l'idea è quella di far venire anche persone interessate ad impegnarsi nel volontariato con i nostri giovani perché la capienza, la possibilità di accogliere i nuovi ragazzi ovviamente dipende anche da quanti operatori. Posta sulla disponibilità al volontariato. A proposito di operatori, adesso devo andare a conoscere chi si occupa veramente dei laboratori. Quindi ti lascio, ma ci ritroviamo poi per gli auguri natalizi visto che oramai ci siamo. Gabriella Bismuto è la coordinatrice delle attività di questo centro La Gloriette. Kat, anche con te ci siamo incontrate lo scorso anno quando ancora speravate di poter avviare alcuni laboratori, tra cui quello di cucina. Che cosa è successo in quest'anno? È successo che siamo attivissimi, che abbiamo tantissimi ragazzi divisi tra le attività del mattino e quelle del pomeriggio e che abbiamo potenziato i laboratori. Abbiamo attivato un laboratorio di cucina, un laboratorio di bilancio delle competenze finalizzato all'inserimento professionale dei ragazzi. Quindi stanno andando avanti una serie di iniziative finalizzate anche al protagonismo e all'autonomia di questi ragazzi. Insomma il vostro obiettivo quindi non è solo quello di intrattenerli, però forse questa non è una parola giusta, ma insomma di accoglierli, ma è quello anche di poterli proiettare nel contesto della società. Sì, infatti l'augurio per il prossimo anno è quello di potenziare l'alleanza con il mondo del profit locale, perché insomma diciamo che la svolta sarebbe potenziare l'area dell'autostima personale con l'inserimento lavorativo di questi ragazzi. Qual è il settore più gettonato dai ragazzi? Come si pongono nei confronti dei laboratori piuttosto che della cucina, della pittura? Allora il laboratorio di cucina va benissimo, va molto bene, loro stanno diventando anche sempre più bravi. Appena saranno diventati ancora più bravi prometto che faremo anche una trasmissione del nostro cibo e dintorni tutta dedicata ai vostri ragazzi. Bello, assolutamente, con molto piacere. I ragazzi stanno diventando molto bravi in quest'area della cucina, abbiamo iniziato che avevano anche delle grandi difficoltà anche nella manualità fine in cucina, adesso sono molto più autonomi e sono in grado di preparare un catering, abbiamo allestito un catering a Castel dell'Ovo per un convegno, quindi voglio dire stanno diventando sempre più bravi, questa è un'attività che va molto bene e l'altra cosa che va molto bene sono le relazioni tra loro. Molti ragazzi che erano in una solitudine, in un isolamento assoluto, adesso hanno delle relazioni sociali e questa è una cosa che ci rende veramente felici. E devo dire che per noi è una gioia vedere tutto l'entusiasmo che in questi anni è cresciuto sempre di più, non vi siete mai scoraggiati e avete portato perciò dei risultati non indifferenti. Il nostro appuntamento non finisce qui. Altre attività, quelle della terra. Sono con Paolo Padovano di Legambiente, che cosa state facendo con i ragazzi della Glorietta in questo che è un altro pezzetto di territorio che piano piano sta servendo a una giusta causa? Sì, questo pezzo di terra è un pezzo sequestrato alle mafie, è tutto nostro, col tempo lo riusciremo ad acquisire totalmente, niente in uno specifico. Qui ci sono delle patate, invece da questa parte è un progetto in collaborazione con la Banca del Semi Slow Food che è molto importante perché sono delle antiche qualità di piante che non si trovano più. Per questo è veramente un progetto a chilometro zero con prodotti non modificati, per questo è veramente importante per noi. I ragazzi rispondono con entusiasmo? Molto, gli piace tantissimo perché lavorare con il verde rilassa tanto, per questo la terra, il ritorno alle origini è sempre la cosa più bella del mondo. Io sono botanico, per questo per me è importantissimo. Noi allora da questo sole meraviglioso adesso ci rispostiamo dentro perché c'è la sorpresa finale. Ecco la nostra sorpresa finale, i nostri auguri di Buon Natale dal centro La Glorietta con la speranza di ritrovarci qui tra un anno con ancora tanti tanti successi. Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale!